Tutto perso, quando qua si potrebbe fare metri e metri di spettacolo Questi sono luoghi che se valorizzati come si deve Tipo per il genere di cose che facciamo noi, video eccetera eccetera Sarebbero veramente sfruttati al massimo, spettacolo Cioè potremmo fare, guardate che c'è qua Potremmo fare cose spettacolo, però ovviamente comuni, istituzioni, aziende grosse Se ne fottono e quindi resta tutto così Ed eccoci a Studio 23, alle prese, con le riprese della serie televisiva Nemo Eccoli qua Ciao ragazzi, cosa state facendo? Non so se Mario faccia un video che ci ha fatto Ciao ragazzi, cosa state facendo? Non più niente Qual è il vostro problema? Eccoli il nostro Nicola Non fare canzone che poi ci capirei Parla compadre, dimmi Che ti serve? Niente Non ha bisogno di niente per ora Dice Ho bisogno di un cavalletto nuovo Un cavalletto nuovo Guardate Uno Maaa ma fa una cosa Ok, allora ci sentiamo più tardi Ciao ciao Ma figlio Mi rivolgo pure No no l'altro Ehm pronto mettiti dritto? Sì Ti dispiace se fumo? Posso? Dire una cosa Capito? Più forte Mi rivolgo All'elicottero nelle cuffie Ti ho portato la granita a me E' già andando E' già andando E' già andando E' già andando Ciao 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 Sono Viviana Ciao Ciao